Ingegnere Sant'Andrea, nel 2021 Cortina ospiterà i mondiali di sci alpino. Cosa prevede il piano delle opere e cosa è stato fatto ad oggi? Il piano delle opere che è stato predisposto per ospitare l'organizzazione dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina nel 2021, prevede sostanzialmente interventi di adeguamento delle piste da sci dove si terranno le gare, sistemazione e realizzazione delle nuove venue, ovvero arrivi di queste piste dove si terranno il gigante, discesa libera e speciale, un adeguamento delle viabilità comunali per migliorare la logistica e la realizzazione di nuovi impianti di collegamento a fune per sempre consentire il trasporto dei visitatori dal centro città sino alla zona di venue dove si potrà vedere le gare. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori? Ad oggi il piano ovviamente prevede non solo l'organizzazione dei campionati mondiali del 2021 ma anche prevede di ospitare le finali di Coppa del Mondo che si terranno a marzo nel 2020 quindi originariamente sono stati divisi in livelli funzionali e soprattutto strategici temporalmente e ad oggi ci troviamo entro Natale con la consegna del primo e secondo livello è stato suddiviso in livelli, come dicevo, in quattro livelli di interventi e si realizzeranno appunto le opere funzionali ad ospitare intanto le finali di Coppa del Mondo nel anno 2020 si completeranno gli interventi funzionali appunto per ospitare i campionati del mondo del 2021 che si terranno a febbraio. Nel convegno che si è appena concluso si parlava di digitalizzazione nella PA in questi casi sono state sfruttate le potenzialità del BIM? L'occasione dell'istituzione commissariale è stata non solo l'opportunità per dare un booster a tutta l'attività legata alla progettazione, approvazione e esecuzione delle opere ma anche l'occasione di poter sperimentare l'organizzazione funzionale legata al Building Information Management quindi la possibilità di poter gestire su un ambiente di dati condiviso con le amministrazioni e gli stakeholder i dati necessari per poter gestire e prevenire eventuali ritardi che si potessero verificare in fase di esecuzione delle opere e quindi volte al raggiungimento dell'obiettivo. Ovviamente gli ambienti di dati condivisi prevedono la coabitazione dei modelli in BIM in cui sono stati progettati parte degli interventi, la possibilità di mettere al sistema ovvero tutta la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi volto all'approvazione dei progetti e anche all'esecuzione degli stessi e una serie di dataset che sono specifici della raccolta dei dati sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Il tutto volto all'analisi tempestiva di un dato certo quindi la centralità del dato assume un valore molto importante all'interno del procedimento e il tutto finalizzato a poter prendere tempestivamente delle decisioni manageriali volte al raggiungimento dell'obiettivo e finalizzate alla riduzione dei tempi e al risparmio della spesa.